Il Salina Festival Il Salina Festival, e questo mi inorgoglidisce molto perché siamo anche insieme ad Umbria Jazz gli unici in Italia, è un festival certificato. Cosa significa? Significa che noi abbiamo la certificazione Multi-Eners che ci consente di immettere nel sistema la stessa quantità di energia che noi consumiamo per le attività che si svolgono durante il festival quindi questa stessa energia viene immessa però prodotta da fonti rinnovabili. Questo garantisce in qualche modo un equilibrio nel sistema e questo ci dà anche la misura di quanto il festival sia attento all'ambiente attento alle politiche del territorio.